È stato stipulato ieri mattina in Regione il contratto di appalto con la ditta Torelli e dottori S.p.A. di Cupramontana, a giudicataria dei lavori per la costruzione del nuovo ospedale da Mandola, e già da giovedì 28 maggio comincerà la predisposizione del cantiere. Si parte dunque subito con i lavori per quest'opera fondamentale della ricostruzione post-sisma, come anticipato dal presidente Luca Ceriscioli e dal sindaco Adolfo Marilangeli il 21 maggio scorso, data in cui il Tar Marche aveva respinto la richiesta di annullamento del decreto regionale di aggiudicazione della data, che sarà un punto di riferimento fondamentale per la popolazione delle aree interne e delle zone terremotate doppiamente provate, prima dal terremoto e poi dal coronavirus. La struttura, completamente antisismica, sarà in acciaio e isolata alla base, garantendo i più alti standard costruttivi. La durata dei lavori del nuovo ospedale di Mandola sarà di circa 19 mesi dalla data di consegna.